Ciao creatura, io sono Eka Desplendenti, benvenuta o bentornata nel regno di Guzai ASMR. Ma tu hai visto le offerte dell'IDE? Io ho quelle da lunedì 22.08 al 28.08. Ma dal nostro Lidl spesso ci sono anche delle offerte che sono di settimane fa e sono cose che sono rimaste lì, sì. Allora io l'ho già un po' sbirciato, ho visto che hanno questa stimola tutte le cose XXL, cioè quelle grandi con tanti prodotti. C'è la stessa confezione però con più prodotti. Sì, ho visto che hanno messo gli alimenti proteici, tu li hai provati? No, io no, perché non ne ho necessità, anche se mi avrebbe voglia di provarli solo per provarli. Sai cosa intendo? Sì E qui per esempio c'è il budino proteico, 1,99 euro, vaniglia oppure cioccolato. Sì, cioccolato. Ad XXL hanno un po' di tutto, vedo. Però di queste cose non mi fa nulla voglia. Vorrei andare a vedere se ci sono un po' di offerte di quelle settimane spettane, quelle che piacciono a noi. Allora. Vediamo un po'. Anche le barrette proteiche, tu le hai assaggiate a 75 centesimi, sembrano un buon prezzo. Sì, di solito costano da un euro in su, se non sbaglio. Se hanno fatto un reparto bio, qui sto leggendo, no? Ci sono un sacco di cose bio che poi alla fine, io ancora non ho capito cosa si intende per bio, perché se mi distucca, scusciate, bio, bio, ti mettono, allora c'è tipo la stessa cosa normale. E la cosa identica con scritto bio costa dubbio. Ok, va bene. Però queste chips di verdura bio mi fanno molta voglia. Anche questi semi di zucca scusciati mi fanno voglia, perché non devi neanche stare lì a scusciartele, capito? Cioè, è altro che bio, vedrei per le persone picre. Io, allora, sono per me. Sono 100% per me. E comunque tra le cose bio troviamo il tiramisù bio e la pizza bio con formaggio di capra. E questa fa voglia però è la bevanda a base di latte al gusto di mango. Bevanda a base di latte, perché si chiama bevanda a base di latte. Ma il gusto di mango cos'è? Tipo un milkshake? No? Però fa voglia. Infatti c'è scritto che è un uovo. Gusto mango, qualsiasi cosa io lo mangio. E ovviamente cosa c'è anche? La preparazione vegetale a base di frutti bio e, cioè, cocco e mango. Cioè, i miei gusti preferiti attualmente. E cocco e pesca. Anche cocco e pesca deve essere buono. Mi piace come abbinamento, perché c'è il cocco, ovviamente. Tofu bio. Allora, bevanda a base di caffè. Queste cosa sono? Misto di cose, credo. Non solo io, però questi infusi, cioè, io li comprerò solo per la confezione. Aspetta, cerco di fartelo vedere. Cioè, hanno dei packaging spettacolari, io vorrei solo per quello. Poi i gusti non è che siano tanto spezzani. Allora c'è snore and pizza, infuso, bio. Non si sa il gusto. Poi, english breakfast di bio. E non si sa il gusto. After dinner, mince, infuso, solo questo. Perché c'è scritto mince e mid. Però ci sono, ah, e ce ne mancava uno, zen, again, infuso. Dovrei leggere le confezioni, probabilmente, per coprire, però, di quella la menta. Che ha il packaging quasi il più bello tra tutti. Sono bellissimi, le vorrei solo per le scatole, o no? Che problemi ho, la creatura? Vabbè, lo so che sei anche tu come me, quindi, passiamo oltre. Sì, passiamo avanti, quale cosa? Puoi farcela con... cosa? Puoi farcela? Ma che titolo è? No, sono tipo attrezzi da lavoro, non ci interessano. Non ci interessano, fidati, non ci interessano. Anche se queste cose da cucina un po' mi... I po' italiani, set di italiani da cucina, mi interesserebbero, però non lo so. C'è anche un altro trick, no, queste tasse sono molto carine, durano 99, però non mi piacciono le scritte, mi piace la formano alle scritte. Ecco, c'è questa cosa che... Toglimela, toglimela, toglimela. Perché ogni volta che vedo le etichettatrice... Non so neanche chi dirlo. Etichettatrice. 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 Creatura, io ho una passione per l'etichettatrice, che non ti dico. Cioè, la volevo fin da piccola, non so perché, ma non è un gioco. Ma io la volevo da piccola, neanche per la mia. E... E niente. Il fatto sta che ogni volta che la vedo, all'etichetta la voglio. Ma un po' non la compro, perché non è proprio quella che voglio io. Io vorrei quella che fa l'etichetta in rilievo. E tu sai di quello che sto dicendo, sicuramente. Hai capito di cosa sto parlando. Però il problema è che se l'avessi, la userebbe qualsiasi cosa e avrei tutta la casa etichettata, compresa Sam. E quindi... Meglio così. Meglio che resti lì, anche perché non è quella che vorrei io. Poi qua, cinque dimensioni di font, sette stili di stampa e otto stili di riquadro. Batterie incluse, cioè anche meno. 19 euro, 99. Vabbè dai, la trovo, la metterò nella lista Amazon. Se vuoi, calmala per Natale. Non ti dico di no, ovviamente, ma non so se la trovo su Amazon, quella che dico io. C'è il distruggi i documenti che servirebbe per il lavoro, dobbiamo sempre strappare a mano i fogli. Ma scusa, non c'era anche la roba messicana? Mi sono perso qualcosa. Aspetta. Era la settimana prima che c'era la roba messicana, quindi questo stimolo qua c'è solo la roba X-Gel. Sono un po' dilute. Ah, però c'è il cibo per gatti, crocchettine, crocchette, gatto, crocchette, crocchette. Ad ora 19 devo prenderle allora. E anche la lettiera per gatti, per sempre. L'offerta, allora bisogna che vado a prenderle. Non pensavo ci fossero la roba messicana, invece era la scorsa settimana. Eh, stavo cercando. Comunque. Ci sono anche delle cose, degli album da, che segnano quelle da colorare. Mi brude un ginocchio perché penso che mi abbia appunto una bonfara. Le piante. Vediamo cosa c'è di piante interessanti. Peperoncini. Ma sono come stipidi questi peperoncini? Vediamo, non c'è scritto. Ma per chi non scrivono, non credo che siano. Cioè io voglio sapere se sono piccanti, come stipidi, solo da bellezza. Metti che sono solo da bellezza, io li mangio. Che bello però. Mi piace perché hanno il vasetto dello stesso colore del peperoncino. Quindi c'è il vasetto giallo, peperoncini gialli. Peperoncini rossi, il vasetto arancione. Io lo vedo arancione. C'è rimasto unissimo. Che felicità. Ho visto un video troppo divertente su TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. Di questo ragazzo. Che felicità. Adoro. Sembra che io quando scrivo la risata, no? In risposta a qualcuno che magari la scrivo e sono seri. Lilium orientale. Che bello. Queste rose in vaso, molto carine. mix di piante fiorite. Belle hanno... Comunque a Lidl hanno un sacco di piante bellissime. Cioè adobo. Ah, sai cosa ho fatto? Sto facendo crescere un piccolo, 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 piccolo. Perché è molto più piccolo degli altri. Seme di avocado. Perché si devono stare più dritta, no? sono rebel, no sono stanco, diverso, e ho preso degli avocado in offerta al Lidl ovviamente, che erano tre confezioni tipo retina di limoni, però erano avocado, e tre non tanto grandi, e dentro è un seme piccolo, e adesso sto cercando di farlo germogliare con quel germogliatore, si può chiamare così, di semi di avocado che abbiamo trovato insieme nelle buste misteri di Tiger, e si sta aprendo, e ho visto su alcuni video che fanno diventare le piantine di avocado, come di bonsai di avocado, e voglio troppo provarci, quindi adesso sto aspettando che nasca per farlo diventare così, di starci un po' dietro, tagliare delle parti, metterci una specie di ferro da giardino per dargli la forma, non so se ci riuscirò, io ci provo. Altra cosa, mi è morta una delle piante di avocado, perché le avevo messe fuori, pensando che, wow, c'è caldo, e è estate, sono piante, penso, tropicali, non lo so, e pensavo che andassero bene messe fuori, invece ci sono bruciate, le ho salvate due su tre, una è di mango, una è di avocado, erano i due gemelli, si è salvato solo il gemello, non quello malvagio, credo, non ne sono sicura, uno dei due gemelli si è salvato, l'altro è morto, e vabbè, pazienza, c'è stato veramente troppo caldo in questo mese, e devo ottenere le piante in casa, c'è, come in inverno, che amorezza, comunque, a me. Ma hai provato anche tu a far germogliare gli avocado, e com'è andata? Lo sapevo, io e te siamo troppo best friend, peggio, comunque, ma tu hai qualche prodotto lì da consigliarmi? Sì, effettivamente, ho quasi provato tutto, ma c'è ancora qualcosa che mi è sfuggito? Sicuro? Sicuro? Dai, non ho provato tutto. Beh, forse non è anche tu vero, ok? Boh, ci sono delle settimane che mi fa voglia tutto, per esempio, altre settimane, che voglio... aspetta la prossima. È Halloween, vabbè, chissà se metteranno cose nuove, io lo spero, anche tu. Sì, sì, voglio farci qualche video, anche ASMR, dove assaggio cose nuove, sì, ci sono, ovviamente. E beh, non posso assaggiare cose che ho già mangiato, lo sarebbe. Cioè, giusto, nel senso, non abbia alcun senso, ecco. Sì. Mi ha fatto molto piacere chiacchierare con te questa sera. Spero di rincontrarti presto, creatura. Io ti auguro buonanotte, buon relax. Ciao, creatura. Io ti auguro buonanotte, 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 io ti auguro buonanotte. 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 Io ti auguro buonotte. 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 Io